La commedia che andiamo a rappresentare noi segue il filone che abbiamo individuato negli ultimi anni. Noi abbiamo scritto, perché noi scriviamo le commedie e le rappresentiamo di nostro, su un problema, su un argomento di attualità. E allora ci siamo guardati attorno di cosa parliamo quest'anno. Negli ultimi due anni abbiamo parlato della pandemia, quindi non ci sembrava il caso di tornare sull'argomento. La guerra in Ucraina è un argomento forte, ma non adatto alle commedie brillanti, una cosa troppo seria, troppo importante. E allora ci siamo guardati, ma di cui parliamo quest'anno? Abbiamo visto che l'argomento più importante, più interessante, che ha un pochettino preso tutti, è quello dei bonus fiscali relativi alle ristrutturazioni dell'Izio, il famoso 110%. Perché su questo argomento, in questi mesi, si è detto un po' tutto, delle verità, delle mezze verità, delle stupidaggine grandissime, perché si sono create delle leggende metropolitane. E allora noi, con il nostro consueto stile GAF, cerchiamo di portare sul palcoscenico tutte queste realtà per riderci sopra. Perché il nostro fine è quello di, diciamo, per due ore, di far ridere quelli che ci vengono a vedere e niente di più. Quindi, diciamo, chi vuole ridere per due ore venga il 29 e il 30 di luglio a vedere 50, 90 o 110. Grazie.